Si parla ancora di balle SK Dance qui sul nostro parterre di Plattamona. Sì, poi, SK Dance è una scuola di ballo di Sassari che è diretta dalle maestre Sara e Katia. Loro sono con noi da più di un anno, sono giovani maestri, come dicevo prima, che stanno operando con grande entusiasmo e grande professionalità. E qui c'è un ballo di gruppo. L'applauso SK Dance Colà! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti